Domenica, 8 luglio, andrà in onda su canale 5 litri attesa serie tv che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. Domenica, 8 luglio, in prima serata su canale 5, debutterà la nuova serie televisiva britannica in costume intitolata Paul Dart, che ha già ottenuto grandissimo successo in molti altri paesi. Ora anche i telespettatori italiani potranno seguirla per la prima volta su canale 5, in Italia è stata trasmessa già in prima visione sul canale satellitare La F nel 2016. Si tratta di una grande produzione che è ancora in corso, si è arrivati alla realizzazione della quarta stagione, che nel Regno Unito stanno andando in onda proprio in questo periodo su BBC One. Al centro c'è la storia del capitano Ross Poehler. Siamo tra il 700 e l'800, Ross Poehler, e il D'Antonio, fa ritorno in patria in Cornovaglia, dopo aver combattuto per tre anni nella guerra di indipendenza americana. Al suo ritorno, quest'ufficiale inglese si rende conto che il suo paese è nella morsa della recessione e che la sua dorata Cornovaglia è praticamente in ginocchio. Inoltre, durante la sua assenza, suo padre è morto, la sua attività mineraria in rovina e, come se non bastasse, sua moglie Elizabeth, Aida Reed, è diventata la neopromessa sposa del cugino Francis Poehler, Kyle Soehler. Sentendosi ferito da tutti i suoi affetti, Ross Poehler prova a rimettere in sesto la sua esistenza con una nuova attività commerciale e, nello stesso tempo, si innamora di un'altra donna. Si tratta di Demelza, Elian Ortam-Linsen, una giovane di umili origini, alla quale, dopo averla salvata da un pestaggio, procura un lavoro sicuro come domestica. Paul Dark deve anche fare i conti con le angherie di un suo nemico, George Warleggan Jack Fartin, un ricco banchiere locale che gli crea alcune difficoltà. Una produzione tratta da due romanzi di Winston Graham. Paul Dark è una serie tv della BBC che è stata prodotta dalla Mammoth Screensu adattamento di due romanzi di successo pubblicati tra il 1945 e il 1946, Ross Paul Dark e Demelza, che sono stati scritti dallo scrittore Winston Graham. Da questi romanzi, negli anni settanta, venne realizzato uno sceneggiato che, già allora, ottenne un notevole gradimento e che fu trasmesso anche dalla Rai. La nuova sceneggiatura della fiction in onda su Canale 5 è stata adattata da Debbie Horsfield mentre la regia è di Edward Banzaggette e di Will McGregor. La prima trasmissione alla BBC è avvenuta l'8 aprile 2015 e Paul Dark ha conquistato una media di circa 8 milioni di telespettatori, che, come è evidente, sono stati dei numeri davvero importanti. In Italia, i diritti di messa in onda in prima tv assoluta dei vari episodi, lì detiene il canale satellitare La F mentre adesso c'è anche la possibilità di seguirla anche in chiaro sul primo canale di Mediaset.